Napoli-Inter, 36esima giornata di Serie A, non sono nemmeno le tre, già si registra una discreta folla a fuorigrotta con i primissimi tifosi che già presenziano qui all'esterno dello stadio Maradona per prendere parte a questa gara comunque importante al di là del fatto che Napoli sia già campione d'Italia e considerando che in senso assoluto non ha un valore strettamente legato alla classifica o qualcosa di importante però è anche giusto, normalissimo, doveroso, giudere nel miglior modo possibile soprattutto dopo la sconfitta di Monza e allora Luciano Spalletti è stato chiaro in termini di motivazioni, in termini di obiettivi anche perché si potrebbe superare il record di Sarri, il record punti di Sarri, i famosi 91 punti e allora la situazione allo stadio Maradona è la seguente con il clima che per il momento regge, ci auguriamo che sia così per l'intera serata, fa anche caldo, non c'è sole se non qualche raggio che filtra ogni tanto appena qualche nuvola si sposta ma in senso assoluto fa tanto tanto caldo e soprattutto alle 14.30 si registrano già i primi tifosi in fila.